Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e concorso a vario titolo in traffico e detenzione illeciti di quantità ingenti di sostanze stupefacenti e porto e detenzione illegale di arma da fuoco. Si chiude il cerchio della giustizia intorno ad una vera e propria organizzazione della droga. Una indagine che ha portato agli arresti di otto persone, due di queste sono state tratte in arresto nelle prime ore della mattinata odierna. I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, supportati nella fase esecutiva da personale di tutti i reparti del comando provinciale carabinieri di Brindisi, nonché dei nuclei cinofili di Modugno, hanno tratto in arresto Francesca Perrone, 31enne di San Pietro Vernotico, e Simone Nucera, 30enne di origini calabresi. Erano già detenuti agli arresti domiciliari, invece gli altri arrestati, Francesco Trisolini e Patrizia Deodora Giovanna Vanel, compagna di Trisolini, Patrizio Perrone e Maria Grazia Pineto, coiugi e genitori di Francesca Perrone, l'altra arrestata di questa mattina, Daniele Risonola e Semira Ruggero. L'indagine è iniziata con l'esecuzione della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, eseguite il 16 novembre 2015 a carico di 13 indagati. Le nuove attività investigative, coordinate in maniera puntuale dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Lecce e conclusesi del marzo scorso, hanno consentito di acquisire un antico quadro indiziario a carico degli otto arrestati di oggi, delineare la struttura organizzativa di un'associazione operante su tutto il territorio provinciale e organizzata nel traffico di sostanze stupefacenti, individuare i canali di approvvigionamento della droga, cocaina, marijuana ed hashish acquistato dalla Germania e destinato allo spaccio nei comuni della provincia di Brindisi, documentare in particolare il trasporto di tre ingenti quantitativi di droga, due di cocaina e uno di marijuana dalla Germania alla Puglia, effettuati rispettivamente nel giugno ed agosto 2014 e nel giugno 2015. Particolarmente fiorente l'attività di droga era all'interno del paese di Torchiarolo che il procuratore della Direzione Distrittuale Antimafia di Lecce ha definito come l'ombelico del mondo in riferimento a questo traffico di droga. La droga viaggiava principalmente in auto, l'ultimo viaggio, quello del 31 luglio, andò male, nell'occasione infatti i carabinieri di Francavilla Fontana arrestarono Francesco Trisolini e la sua compagna Patricia Vanel, poiché fermati dai militari dell'arma rientro da un viaggio in Germania erano stati trovati in possesso di 40 kg di cocaina suddivisi in 40 panetti nascosti in un doppio fondo ricavato all'interno della Peugeot 307 su cui viaggiavano tranquillamente per le vie di Oria. Grazie a tutti.